Linux Day, anche quest'anno, è ospitato dal Kennedy. È una lunga tradizione quello che vede il Linux Group, questa associazione di volontari che dal 2004 cerca di diffondere non solo Linux, ma in generale il concetto di Open, Open Software, Open Document, eccetera, e che costituisce uno di quei piccoli motori dell'innovazione nel nostro territorio. Noi come amministrazione da sempre abbiamo manifestato una grande vicinanza a temi di questo tipo, abbiamo fatto delle delibere di indirizzo proprio per sposare il fatto di usare software Open nella pubblica amministrazione. Allora, sembrano tutti termini tecnici piuttosto strani, piuttosto lontani da quello che è la nostra vita quotidiana. Non è così. È un modo per condividere meglio le conoscenze, per far sì che dal punto di vista tecnico noi si diventi capaci di fare dell'innovazione, di essere nel mondo dello sviluppo software. La mia presenza qui oggi, all'apertura del Linux Day, ha proprio questa valenza. indicare che questo è una di quelle aree in cui come comunità dobbiamo investire e dare anche un senso al lavoro che i volontari fanno e per questo lavoro sicuramente sono meritevoli. Una grande passione, senza un euro di mezzo, sta a indicare che alla fine ci si crede sul serio.